Buonasera, ben trovati ad ora TG in apertura, ci occupiamo ancora del terremoto di Santo Stefano, andiamo in particolare a Zafferano Etnea, quasi un mese dall'evento a Fleri, nella frazione di Fleri si attende la demolizione degli edifici pericolanti e tra i residenti intanto la voglia di ripartire, di ritornare alla normalità. Sentiamo Francesco Larosa. E' un panorama spettrale quello che si presenta all'occhio della nostra telecamera nella frazione di Fleri a Zafferano Etnea. Le via Vittorio Emanuele, centro nevralgico della frazione, è completamente deserta. Alcuni edifici portano segni profondi del terremoto dello scorso 26 dicembre. Alcuni di questi dovranno essere demoliti affinché si possa riaprire la strada alla circolazione viaria. La data di tali demolizioni sembrava imminente, ma così non è stato. E bisognerà probabilmente attendere ulteriori sopralluoghi. Intanto chi ha perso sia la casa e sia il negozio dove esercitava la propria attività professionale, dopo il comprensibile momento di smarrimento e paura anche per aver rischiato la vita, è pronto a rimboccarsi le maniche. Sì, assolutamente. Noi alle 3.19, quando è avvenuto il sisma, abbiamo avuto dei forti movimenti di tutta la struttura e ci è arrivato l'armadio addosso. Siamo vivi per miracolo perché 20 minuti prima avevo preso mio figlio, l'ho messo nel lettuccio e l'avevo messo accanto al nostro letto grande e ha fatto da ponte nella caduta dell'armadio e non ci è arrivato addosso. Ha perso la casa ma anche la sua attività lavorativa? Sì, uno studio fotografico, anche quello inagibile con lettera E, dobbiamo buttare a terra tutte le pareti, attrezzature guaste, abbiamo avuto diversi danni. Come si reagisce in situazioni di questo genere? Bisogna fare affidamento a tutte le risorse psicofisiche? Assolutamente, in questo caso l'ottimismo è un'arma vincente, infatti noi stiamo ripartendo, a breve saremo operativi su Zafferana come studio fotografico, di nuovo per tutti i clienti saremo a disposizione e stiamo cercando una casa in affitto nel frattempo che arriveranno queste risorse, spero in tempi brevi, per sistemare tutto, attività e casa. Qualcosa è stato fatto da subito, abbiamo visto sul territorio tutte le forze di polizia e protezione civile, diciamo sono state molto pronti ed eccellenti su tutto, ci hanno aiutato a sgomberare l'attività, le case e tutto, però ancora da parte dello Stato non abbiamo avuto la seconda parte dei finanziamenti perché ha avuto danni superiori a 25.000 euro e non è previsto al momento neanche rimborsi per le attività o contributi di affitto per le attività come per le case. Nella sala operativa della protezione civile, allistita all'interno della sala consigliare del municipio di Zafferana, si lavora alacremente, l'obiettivo è quello di smaltire al più presto le varie pratiche e concedere ai terremotati i benefici previsti dalla legge, una situazione di difficoltà che ha coinvolto l'intera comunità con prospettive ancora lunghe. In una fase emergenziale abbiamo spinto al massimo l'assistenza alla popolazione, proprio al massimo dei servizi che possiamo erogare nei limiti delle risorse disponibili. Siamo riusciti a mettere 450 persone in albergo oggi, prima non molto di più, stiamo ottenendo i contributi di 25 mila euro per l'autonoma per sistemarsi le case non danneggiate in modo irrimediabile, quindi stiamo attivando tutte le situazioni che possono alleviare un po' il disagio che c'è nella mia comunità. Borelli, il direttore nazionale, i ministri, i sottosegretari sono tutti disponibili a seguirci in quest'idea procedurale. Sono due le fasi, una è la fase emergenziale che stiamo gestendo ora e poi c'è la fase della ricostruzione, che partirà con un decreto legge fra un mese e due mesi massimo. Ci spostiamo negli altri territori colpiti ad Acireale, in particolar modo a Pennisi, proseguono i lavori di messa in sicurezza della chiesa. Degli operatori specializzati stanno lavorando in particolare sul tetto, intanto il parroco invita la comunità a restare unita. La comunità di Pennisi, frazione di Acireale, segue con attenzione all'evolversi dei lavori alla chiesa parrocchiale, seriamente danneggiata dal sisma stamattina, malgrado la pioggia. Una ditta specializzata era al lavoro per la rimozione delle tecole in una porzione del tetto, la struttura religiosa peraltro. Anche ad occhio nudo presenta delle vistose ferite, che ne mettono fortemente in discussione l'utilizzo futuro. Non perde la speranza però il parroco del luogo, fortemente segnato dall'evento sismico, ma continua sprone anche sotto il profilo psicologico per la comunità locale. Ancora non hanno finito, ma io non so bene esattamente quanto tempo ci vorrà. Noi come comunità ci stiamo muovendo per rendere agibile un salone che abbiamo qua vicino, che diventerà il nostro punto di appoggio, perché oltre a questa c'è anche l'altra chiesa di Fiandaca, che è stata danneggiata. Da fuori è meno evidente, ma ci sono danni anche lì. E quindi noi per ora tutto è inagibile, il locale che stiamo cercando di risistemare è quello. Quindi questa è la situazione. Senta, com'è reagito la sua comunità a questi eventi? Ma purtroppo molti non ci sono più, perché alcune vie sono state completamente quasi sfollate, e per cui ci sono meno persone. Quelli che noi ora ci stiamo riunendo nell'asilo, quando il tempo lo permetteva in piazza, nella piazzetta sotto a Fiandaca. Comunque le persone vengono, ci sono, partecipano alle funzioni, eccetera. Ovviamente siamo tutti un po' scioccati, perché è stato un evento forte, ci ha traumatizzato un po' a tutti. Però abbiamo tutti voglia, credo, di ripartire, di metterci... Ora la cosa più esplicabile è che le persone possano tornare qua, anche secondario alla chiesa. La chiesa è certo importante, però prima le case, e ce ne sono tante che sono state gravemente danneggiate, quindi qui speriamo che ci siano degli aiuti che arrivino il prima possibile. Ha avvertito un po' di scoramento? Ma certo, soprattutto negli anziani, che per loro è faticoso, magari hanno vissuto 60 anni, 50 anni, 80 anni, alla stessa casa, spostarsi. Sì, sì, certo, ma anche i giovani. Fortunatamente anche negli alberghi, la maggior parte delle persone di qua sono all'Hotel Maugeri e all'Orizzonte, un po' meno. Sono psicologi che stanno facendo un lavoro, perché comunque la botta è stata molto forte, quindi si è scioccati, veramente. Bisogna più che mai fare leva sulla fede? Certo, se in questi momenti non impariamo ad affidarci a qualcosa di più grande, quando lo possiamo fare? Lei comunque rimane sempre particolarmente legato a questa comunità, nella speranza che si possa ripartire al più presto, anche se guardando la Chiesa le condizioni sono abbastanza precarie. Ma ripartire nella Chiesa, non lo so quando sarà possibile, la comunità non si è fermata. Ora noi, rimettendoci in sesto quel luogo lì, comunque avremo un luogo per riunirci, per riunire i giovani, per fare le catechesi, ora la facciamo nelle case. Cogliamo i lati positivi, ci sono dei lati positivi in tutto questo, li vogliamo cogliere. Le maggiori conseguenze riguardano la viabilità di queste città, di questo territorio, non sono pochi i disagi a Daci Catena, in particolare nel quartiere di Santa Lucia. Intanto quest'oggi in municipio è stato presentato un manuale di protezione civile. Vigili del fuoco ancora impegnati per mantenere condizioni di sicurezza attorno alla chiesa di Santa Lucia, da Cicatena, dove la viabilità rimane interdetta alle auto e lo sarà almeno per tutta quest'altra settimana, confermano stamani i pompieri che operano per ingabbiare il campanile. Alto oltre 30 metri, seriamente danneggiato dal sisma dello scorso 26 dicembre. Inevitabili le ripercussioni sul traffico intensificatosi particolarmente da quando diverse strade qui, tra loro collegate e di snodo per chi giornalmente si reca a scuola o al lavoro, sono state chiuse perché strutturalmente non idonee a garantire una viabilità sicura. Attendiamo disposizioni dai Vigili del fuoco, spiega stamani l'assessore Angelo Russo, in municipio per la presentazione di una brochure sui comportamenti di protezione civile da adottare non solo in caso di terremoto, ma anche in situazioni di crisi come alluvioni, tsunami e frane. Purtroppo lì vi è ora l'ultima parte dell'intervento, quello più difficile, relativo all'ingabbiamento della Torre Campanaria. Naturalmente sono interventi che si stanno prendendo un po' di tempo proprio perché si opera in condizioni di altezza non indifferenti, parliamo oltre 30 metri, e perché giustamente si deve fare un intervento per non tornare più in quel posto e quindi si deve fare un intervento risolutore che mette in sicurezza e si riapre alla viabilità. Quindi chiedo ai nostri concittadini e ai commercianti che stanno soffrendo di questa chiusura di pazientare un altro po' di giorni, ma quando riapriremo tutta la zona nelle condizioni di sicurezza per la cittadinanza. Si possono ipotizzare delle date? C'è già una tabella che scandisce una tempistica? Allora, l'intervento è già iniziato, quindi le date in questo caso il Comune funge soltanto da esecutore di quello che decidono i vigili del fuoco, quindi appena i vigili del fuoco ci diranno che possiamo riaprire la viabilità, sicuramente il Sindaco il minuto dopo riaprirà la viabilità della zona. Assessore, oggi si presenta questo manuale informativo sul piano di protezione civile in una situazione in cui si trova oggi il Comune di Eccicatena risulta fondamentale uno strumento di questo tipo? Naturalmente oggi più che altro diventa un qualcosa che le persone ci chiedono, ma devo dire che questa attività è programmata da circa un anno, cioè il manuale è stato autorizzato un anno fa, la ditta che lo ha proposto, poi loro hanno cercato le aziende sponsor locali e quindi è passato un anno per redigerlo e per stamparlo, quindi non è una cosa dettata successivamente al terremoto, ma era frutto di un'azione preventiva del mio assessorato alla protezione civile. Inoltre per la cittadinanza tengo a sottolineare che questo manuale costerà zero, stampato in 10.000 copie, zero perché il Comune ha dato solo l'autorizzazione, mentre per la realizzazione hanno partecipato delle aziende sponsor locali. A Daci Sant'Antonio, più in particolare nella frazione di Santa Maria la Stella, protestano i genitori per la chiusura di alcuni plessi scolastici, dicono no ai doppi turni e chiedono soluzioni veloci. In piedi al freddo, al gelo, sotto la pioggia, senza ancora risposte che facciano chiarezza sul rientro dei loro figli nei plessi scolastici, rimasti chiusi anche dopo la fine delle festività natalizia a causa dei danni del terremoto, sono i genitori degli alunni della De Andrè, quelli che frequentano le scuole di via Antonello da Messina e via Cantagallo, oggi costretti a doppi turni che li portano a essere fuori fino alle 7 di sera, pesante per i ragazzini. Nel complesso sono oltre 200, sostenere ancora questi ritmi impensabile. Alunni delle medie, elementari e materne di tutte le età, appoggiati alla struttura di via Veronica, dove a turno le classi presenti riducono gli orari delle lezioni per poter consentire ai ragazzi rimasti fuori di continuare i programmi. Due settimane troppe per padri e madri che già in condizioni abituali fanno fatica a conciliare lavoro con impegni scolastici ed extrascolastici dei loro figli. L'appello all'amministrazione comunale. Poi stamattina siete qui per lamentare una situazione che non sembra risolversi, almeno nel breve tempo. Sì, non sembra risolversi appunto, ma questa situazione. Adesso c'è la scusante del terremoto, ma noi non siamo certi che sia dovuto al terremoto, anche perché dall'inaugurazione della scuola, praticamente dopo un mese, si sono verificate infiltrazioni, umidità, quindi disagi già ce l'avevamo da prima. A questo punto vorremmo capire se la scuola risulta inagibile a causa del terremoto o appunto per i problemi che c'erano sin dall'inizio. Suo figlio frequenta la seconda media, ha delle difficoltà d'apprendimento, al pomeriggio dovrebbe essere seguito da specialisti, ma si trova invece costretto a frequentare per i turni pomeridiani. Come fa lei che lavora? Non lo so, non ho idea. Anche perché comunque è un altro figlio in terza media, oltre quello di seconda. e lo specialista che lo segue mi ha detto anche che potevo portarlo la mattina, però con degli orari che non coincidono naturalmente con i miei orari di lavoro. I genitori si lamentano anche del fatto che c'era stato promesso un servizio di pulmino aggiuntivo ai pulmini normali che vengono pagati dai ragazzi per essere accompagnati, totalmente gratuito, però ad oggi non abbiamo ancora capito come funziona questo pulmino. Dovrebbe essere oggi l'inizio di questo accompagnamento e riportarli a casa, però non si capisce dove vengono a prenderli, con quali quantità di pulmini, perché i pulmini che ci sono non sono idonei a portare tutti questi ragazzi. Qualcuno ha già avuto difficoltà perché si arriva un'ora dopo a scuola. Poi la questione del plesso Cantagallo che più o meno raccoglie lo stesso numero di studenti di questi plessi del villaggio Costanzo. Anche lì la situazione è ferma. Sì, io sono una mamma di via Cantagallo dove ci sono cinque classi di elementare e una materna. Noi siamo stati anche dal sindaco e ci ha fatto delle promesse che avrebbe ripristinato dei locali, ma tutt'oggi non abbiamo visto grandi spostamenti, grandi movimenti. Cerchiamo di mantenere viva l'attenzione perché i bambini di pomeriggio non possono andare. Considerato che ci sono classi, bambini piccoli di prima elementare, è difficile tenere l'attenzione, il rendimento scolastico è minore, le ore scolastiche pure. E non è possibile con questo freddo mandare bambini il pomeriggio. Questa è la realtà dunque descritta come avete visto dalle mamme, dai genitori. A proposito di soluzioni immediate, i consiglieri d'opposizione propongono la riapertura di una scuola in realtà chiusa già da tempo, ma secondo l'amministrazione la struttura è inagibile. Sentiamo. I doppi turni estenuanti per gli studenti, difficoltosi da gestire per i genitori, in assenza di strutture disponibili per sopperire alla carenza di aule sicure, i consiglieri d'opposizione di AC Sant'Antonio avevano presentato istanza per chiedere di fruire di quello che un tempo era il plesso scolastico di via Montale. Lo confermano stamani Salvo Privitere e Antonio Di Stefano, che dopo le opportune verifiche parlano di assenza di dichiarazioni di stato di inagibilità di questa scuola, dismessa ormai da qualche anno. Si sono però ritrovati davanti le parole del sindaco che ha invece smentito, confermando le condizioni non sicure di aule e corridoi di questo edificio. A noi non risulta, ribattono Privitere e Di Stefano, attendiamo documentazione che attesti quanto dichiarato dall'amministrazione comunale. Detto bene, noi su questa risposta del sindaco abbiamo serie di dubbi. Questa scuola era prima del sisma adibita ad altro e prima ancora era un plesso scolastico. Ci domandiamo noi oggi perché non adibire questa scuola al servizio scolastico anziché essere adibita ad altro e perché ci stiamo pensando oggi e non prima, visto che siamo usciti da un periodo di vacanze natalizie. Avremmo evitato questo disagio a tutte le mamme e a tutti i ragazzi. Purtroppo oggi il sindaco esce con una dichiarazione che dice che non è agibile. Abbiamo chiesto qual è l'ordinanza che dà l'energibilità a questa scuola e vedremo in questi giorni effettivamente se è comodice lui oppure no. Siete qui oggi per dare il vostro supporto a queste mamme che non sono soltanto mamme, sono lavoratrici. Sì, siamo qui proprio a testimoniare la nostra vicinanza e supporto a questi genitori che stanno subendo in qualche modo dei disagi. Erano state fatte delle promesse e ad oggi purtroppo non sono state mantenute. Abbiamo visto che purtroppo ad oggi il servizio scolastico, di trasporto scolastico è carente quindi gli alunni c'è una lunga attesa per arrivare alla scuola del centro soprattutto anche per il problema delle condizioni climatiche, c'è freddo quindi dovrebbe essere potenziato, migliorato il servizio di trasporto scolastico. Mi auguro che questo venga fatto nel più breve tempo possibile. E poi purtroppo la situazione della scuola di via Messina già sappiamo che era stata personalmente chiusa per i lavori che erano stati fatti male ora si c'è giunto anche il sisma ed è stata chiusa per dei danni interni alle tremezzature. Noi riteniamo che questi danni potrebbero essere sistemati nell'immediato anche con risorse proprie senza aspettare che la soluzione ci cada dal cielo in modo da riattivare questo polo scolastico che per le frazioni è molto importante. Lasciamo la pagina dedicata al terremoto. La cronaca si era trasferita da Catania a Sanremo dove è stata uccisa almeno secondo gli investigatori dal fratello con cui viveva da anni. L'omicidio attaggia vicino alla città dei Fiori. La vittima Palma Agostino, 70 anni, è stata massacrata a colpi d'accetta. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato il fratello Enzo al culmine di una violenta lite a colpire l'anziana. L'uomo è stato arrestato, per ora restano nel mistero i motivi del litigio. E anche a Catania oggi sciopero del trasporto urbano tra le ragioni del malcontento nazionale e le nuove norme europee sul lavoro degli autisti. Oggi si sciopera? Si sciopera dalle 12 alle 16. Sciopero nazionale. Qual è il motivo? Il motivo è che vogliono allungare gli orari di lavoro. Stanno cambiando la turnistica. Non hanno convocato i sindacati per parlare di questo. È un provvedimento all'improvviso fatto. È sciopero nazionale. Autobus fermi dalle 12 alle 16 di oggi a Catania. AMT, Circumetne e Metro aderiscono allo sciopero intercategoriale nazionale dei trasporti di quattro ore. A renderlo noto con un comunicato è la stessa azienda metropolitana Trasporti che si scusa in anticipo con i cittadini per i disagi provocati. Alla base delle proteste le modifiche del regolamento CE 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e pullman. Tra queste le nuove normative europee che modificano i tempi di guida e di riposo dei lavoratori. È uno sciopero importantissimo per tutta la categoria degli autoferrotranvieri. Si parla di modificare delle leggi stranamente perché si va a cercare di tutelare i lavoratori e chi è che usufisce dei mezzi pubblici in questo modo stanno cercando veramente di tagliare quello che in tanti anni hanno avuto i lavoratori. Come modificare la 561 che è gravissimo perché i tempi di percorrenza, i riposi, la sicurezza sul servizio e tutto viene meno. Ma addirittura qua si parla di far invadere l'Italia da vettori stranieri che possono entrare a far servizio ovunque. Quindi ulteriormente gravare la crisi di trasporto pubblico locale che abbiamo in Italia e in Sicilia cercando di far entrare altri operatori effettivamente anche se c'è il libero mercato comune non è una cosa così facile e semplice. Ma non solo queste le motivazioni che spingono ad incrociare le braccia i lavoratori di EMT. L'azienda spiegano i rappresentanti sindacali e in ginocchio troppo pochi mezzi di trasporto carente il personale per i prossimi giorni annunciano in programma ulteriori proteste. Lo sciopero di oggi è sentito dai lavoratori dell'EMT perché in un momento come questo particolare dove la nostra azienda sta vivendo a causa del distesso comunale una situazione veramente gravosa addirittura i lavoratori sono privi di stipendio dal mese di dicembre hanno pagato solo una parte il 50% ma fermo restando dico che la preoccupazione non è lo stipendio ma è la continuità dell'azienda. Un SPA ha bisogno di liquidità, un SPA ha bisogno che il socio, unico socio comune di Catania cosa che fino ad oggi è stato completamente assente deve dare risposte non solo ai lavoratori ma una città come Catania ad oggi girano meno di 85-90 mezzi, ci sono problemi per i ricambi ci sono problemi di organizzazione di tutta l'azienda ferma da circa 20 anni, non c'è stato più un piano veramente di risanamento o un piano di lavoro collettivo. Noi mercoledì avevamo un incontro in prefettura dove denuncieremo alle massime istituzioni del governo quello che sta accadendo qui a Catania, abbiamo la necessità di avere almeno un servizio con 120 autobus addirittura non abbiamo neanche la disponibilità degli autisti, siamo sorte organico cioè non può essere gestita un'azienda in questo modo, noi con l'incontro del 23 proclameremo di nuovo lo sciopero, avevamo fatto una battuta del resto per dare dimostrazioni che la nostra organizzazione sindacale non è per bloccare il servizio o dare di servizio ai cittadini anzi noi cerchiamo di migliorarlo il servizio ma quando vediamo che la controparte è cieca e sorda non ci resta da fare che scioperare. E' sciopero finito a Catania, tanta paura questo pomeriggio verso sera proprio nella metropolitana per un allarme bomba, fortunatamente poi rientrato e risultato un falso allarme quello che ha messo in agitazione la popolazione nel capoluogo etneo si era infatti diffusa la notizia di un allarme bomba per la presenza di un presunto ordigno nella metropolitana di Catania, la valigia sospetta era stata segnalata all'ingresso della stazione di via Vincenzo Giuffrida all'altezza di via Cagliari il traffico è stato deviato, la zona transennata con naturalmente diversi disagi per la viabilità sul posto sono giunti i carabinieri, vigili del fuoco, vigili urbani e sanitari del 118 fortunatamente si è trattato di un falso allarme. E ancora a Catania dove si discute del possibile aumento della tassa di soggiorno oggi in consiglio a Palazzo degli Elefanti intanto la gestione dei tributi in dissesto La delibera di giunta sull'aliquota dai tributi prevista al massimo consentito secondo la normativa riguardante i comuni in dissesto approda oggi in consiglio comunale a Catania nessun cambiamento rassicura l'amministrazione per Tasi e Imu Seconda Casa qualche piccolo ritocco per la Tosap, tassa per l'occupazione del suolo pubblico secondo gli adeguamenti Istat e per l'imposta riguardante le pubblicità e le pubbliche affissioni un atto dovuto afferma il presidente del consiglio Giuseppe Castiglione che annuncia una serie di sedute di consiglio nel corso della settimana Credo questa liquida è dovuta al dissesto e tra l'altro è un dato per quanto riguarda l'Istat quindi i cittadini possono stare tranquilli che non ci saranno aumenti particolari però col fatto del dissesto credo che sia un atto normale dovuto ringrazio il consiglio comunale tutto, la commissione bilancio perché in tempi brevi e certi hanno cercato di portare queste delibere in questa settimana ci saranno altri consigli comunali devo dire che il consiglio sta lavorando in maniera celere perché il dissesto è per tutta la città, per i cittadini quindi dobbiamo portare delibere l'amministrazione sta lavorando credo che ora ci sarà giunta per altre delibere per il regolamento per quanto riguarda la tassa di soggiorno e quindi si sta lavorando tutti quanti sia amministrazione e soprattutto il consiglio comunale devo dire che in tempi veramente certi stiamo cercando di risolvere il problema della nostra città Giunta riunita intanto anche questa mattina a Palazzo di Città per discutere della delibera riguardo all'aumento della tassa di soggiorno in città La tassa di soggiorno che pare debba essere un po' aumentata Sì, deve essere aumentata in linea con quelle che sono appunto le indicazioni della missione comunale sulla necessità appunto di rimpinguare quelle che sono le casse del comune tra l'altro in una situazione di dissesto Catania attualmente pratica una tassa di soggiorno che è lieve ma che può essere aumentata attraverso appunto dei piccoli livelli di aumenti molto congrui che il sindaco ha concordato insieme a tutta la missione comunale insieme con le associazioni di categoria quindi si tratta di aumenti congrui, non eccessivi e quindi non mortificano quella che è la possibilità delle strutture ricettive, dell'accoglienza e della possibilità di soggiorno per i turisti ma al stesso tempo è differenziata anche sulla base della tipologia di accoglienza che si fa cioè ogni struttura è diversificata sulla base appunto delle cosette stelle e da lì appunto si seleziona quella che è anche la clientela in automatico e quindi è possibile allo stesso tempo anche calibrare l'aumento della tassa di soggiorno in tal senso, quindi una differenziazione che è appunto adeguata ai livelli della struttura di accoglienza e quindi ai livelli anche del target di turisti che andremo ad accogliere Si parte da un minimo di? Di un euro che andrà a 1,50 euro, 2 euro andrà a 2,50 euro e queste sono le strutture terzo e quattro stelle e poi i luxuri che ovviamente avranno un aumento più sostanzioso però è chiaro che chi accede a una struttura cosiddetta luxuri è una clientela facoltosa, quindi un turista facoltoso che può permettersi anche di sostenere un aumento della tassa di soggiorno che sia appunto più congruo e più confacente alle sue possibilità Sarà certamente un periodo di grande turismo la festa di Sant'Agata, i giorni clou dei festeggiamenti si avvicinano oramai si risparmierà a causa del dissesto ma la crisi non inciderà sui momenti più importanti dei festeggiamenti quanto viene ribadito dal comitato La prima festa di Sant'Agata della sindacatura pogliese coinciderà con quella dell'era del dissesto finanziario tagli sì ma moderati per l'organizzazione di quello che è considerato l'evento religioso maggiormente partecipato d'Italia si stima che ogni anno dal 3 al 5 febbraio vi prendano parte un milione di persone si confida nella sensibilizzazione delle ditte che installano le luminarie invitate a ribassare i costi e nel contributo dei privati così come è avvenuto per il Capodanno il comune contribuirà come sempre ma riducendo non si sa ancora di quanto gli oltre 400.000 euro concessi gli anni passati fondi questi provenienti dalla tassa di soggiorno ridotto a 125.000 euro 4.000 in meno invece l'importo stanziato per i fuochi d'artificio ma nell'avviso pubblico rivolto alle imprese pirotecniche c'è specificato che il livello deve essere elevato come in passato dunque a due settimane dal clou dei festeggiamenti si definiscono gli ultimi dettagli ma celebrazioni, processioni, iniziative collaterali non dovrebbero tanto risentire della crisi dell'ente municipale Sì, il sindaco correttamente ha valutato e noi siamo d'accordo una riduzione del contributo del comune che storicamente finanzia la festa questo contributo deriva dalla tassa di soggiorno quindi sono soldi dei turisti per il turismo non possono essere utilizzati per altri scopi per pagare debiti o per pagare stipendi pur non di meno si è scelto di fare questa riduzione e stiamo compensando con sponsorizzazioni private donazioni di altri enti e soprattutto con la grande voglia dei catanesi di partecipare quindi nonostante la riduzione siamo riusciti a mantenere sostanzialmente tutto il programma anzi ad aumentare le attività culturali ad esempio abbiamo 13 mostre contemporaneamente abbiamo 31 discipline sportive della Coppa Sant'Agata insomma la città ha risposto adeguatamente e quindi vivremo la festa di Sant'Agata sempre con compostezza e ordine ma anche con grande gioia A proposito della sicurezza? Sì, abbiamo svolto in questi mesi col coordinamento del prefetto numerose riunioni appunto del comitato provinciale per l'odio della sicurezza ci sarà grande attenzione come sempre ormai negli ultimi anni è obbligatorio dopo i fatti di Torino della discoteca quindi grande attenzione alle processioni ma grande attenzione alla messa dell'Aurora e al pontificare di giorno 5 ci saranno ovviamente delle misure di controllo dei filtraggi eccetera la Chiesa non può accogliere all'infinito purtroppo i fedeli quindi ci saranno delle misure e invitiamo i devoti e i catanesi a vivere con serenità e con ordine anche questi momenti Sesta edizione quest'anno del premio dedicato alle vittime della Shoah ed organizzato dall'ente per il diritto allo studio dell'Università di Catania 5 le borse di studio da assegnare la cerimonia si svolgerà il prossimo 28 gennaio Sesta edizione del premio sul giorno della memoria il bando di concorso istituito dall'ERSU del capologo etneo che invita gli studenti a confrontarsi sul tema della Shoah per non dimenticare l'iniziativa è stata presentata oggi nella sede dell'ERSU di Catania dal presidente Alessandro Cappellani alla presenza tra gli altri della professoressa Sara Zappulla Muscarà presidente di giuria del concorso un premio importante molto sentito e partecipato dagli studenti ma che appunto come si diceva poco fa in un contesto mondiale attuale di violenza continua assume delle connotazioni ancora più importanti e profonde Sì certo, intanto sono stato sorpreso in maniera molto favorevole di quanti studenti abbiano aderito a questa iniziativa Certo, abbiamo collocato dal punto di vista culturale questo premio quindi abbiamo chiesto agli studenti di lavorare un po' di più quest'anno non soltanto già nel difficile compito di mantenere viva la memoria di una tragedia che ha insanguinato l'Europa del secolo scorso ma anche di cercare di collocarne un significato attuale in un'Europa che sta cambiando alla luce degli attacchi terroristici alla luce della crisi dell'immigrazione e che quindi potrebbe reagire in maniera sbagliata creando dei focolai di ritorno al passato drammatici questi errori non si devono ripercorrere più se noi continuiamo a ricordare ciò che è stato fatto dai tedeschi nei campi di sterminio e nei lager nazisti e lo ricordiamo dopo tanti anni e dobbiamo aspettarci che le giovani generazioni lo ricordino per tramandarlo ai loro figli e questo è il significato dell'istituzionalizzazione del giorno della memoria cioè il Parlamento italiano il 27 dicembre ha scelto che ogni anno si parli di questo argomento se vi accendete alle televisioni o guardate i giornali vedete che tutti contribuiscono al loro modo a mantenere viva la memoria ma bisogna stare attenti che non diventi soltanto uno slogan privo di significato ma che bisogna riflettere attentamente a non commettere degli errori ciò che accade in Europa va lottato sempre all'interno dei cardini della democrazia e della legalità non bisogna mai sconfinare non bisogna mai avere reazioni troppo reazionarie perché poi questo porta lontano come ha portato lontano la reazione dei tedeschi alle sanzioni degli alleati alla prima guerra mondiale due i momenti per la premiazione degli elaborati scelti dalla giuria la mattina di lunedì 28 gennaio in prefettura Catania alla presenza delle autorità il vincitore del primo premio leggerà il proprio elaborato alle 17 invece nell'aula magna del rettorato in piazza università avverrà la cerimonia di premiazione per gli elaborati e di cortometraggi 5 premi messi a disposizione dall'Ersu 1000 euro per il primo classificato 700 per il secondo 500 per gli elaborati di 4000 battute in formato Word 1000 euro e 500 euro invece andranno al primo e secondo classificato per il cortometraggio di massimo 5 minuti è tutto nessun aggiornamento per questa edizione ci fermiamo qui vi ricordo che potete seguirci anche attraverso il sito internet che vedete in sovrimpressione la pagina Facebook e il canale YouTube adesso come sempre le previsioni del tempo grazie di averci seguiti e tutti una buona serata le previsioni meteorologiche per la giornata di domani martedì 22 gennaio il cielo sarà velato su tutta la Sicilia qualche precipitazione sparsa ma nessuna rovescia a carattere temporalesco i venti saranno deboli i mari calmi diamo uno sguardo adesso alle temperature a Catania previste minima e massima rispettivamente di 9 e 16 gradi centigradi situazione quasi speculare a Siracusa la temperatura più bassa invece sarà rilevata ad Enna con un grado a a a a a a a a a Grazie a tutti.